L'intervista migliore in campo Nicola De Jorange, complimenti Nicola, è stato scelto il mio incontro, ripetiamo un po' l'incontro contro il Drew Powers Senti, stasera voglio essere di poche parole, abbiamo fatto la grande partita, abbiamo meritato, niente, ce l'abbiamo fatta, siamo ritornati di Jorange di una volta Gravissimo Nicola, un piccolo ringraziamento, chi lo vuoi fare? Un piccolo ringraziamento alla squadra che è stata compatta, al mister Perrot che ha esordito sulla nostra panchina Niente, con una vittoria, niente, che ti volevo dire? Coppietti, bravo Nicola, bravo a tutti